Ringrazio Elipedretti per il lavoro fatto, per l'impegno che ci ha messo, per il cuore che ci ha messo. Arrivo a ringraziare anche tutti quelli che si presentano e danno la disponibilità per poter gestire questo ente, perché onestamente, dal mio punto di vista ci va del coraggio, quindi ringrazio tutti, quelli che si sono presentati come presidenti e anche quelli dell'elite, mi ringrazio davvero. Cancelli ha fatto un passaggio in cui si augurava un certo passaggio, cioè una sorta di possibilità di gestire questo ente, in modo come dire, passate in termini poco alleganti, però quasi comunitaria, potessimo tutti essere un po' dalla parte dell'ente, più che dalle parti politiche. La mia amministrazione, e io che la rappresento, la sottolineerò questa posizione. attraverso un voto di astensione, quindi né a uno né all'altro, perché è una sorta di posizione che vuole sottolineare questa cosa. Quindi ci teniamo prima, ci teniamo adesso, lo diciamo, mettiamo la faccia in questa posizione. Significa altro che lo spirito che è stato soppegnato benissimo da Cacemi, ma voglio che ci sia una posizione che faccia capire questa cosa. Punto e basta. Poi ognuno di noi ha le proprie posizioni politiche, alle proprie, ci mancherà bene. Il rispetto per le persone, sempre. ci mancherà bene, ci mancherà bene. Quindi questo è proprio il problema. Grazie. Grazie.